Gilles Villeneuve, 90 ore dopo Imola Gilles, è passata la rabbia e è rimasta la febbre o no? è rimasta la febbre? oh sì, io come ha detto a fine gara mi ha rubato questa gara e penso ancora così non cambia idea Gilles, giusto? non cambia idea, è un fatto giusto se ti riguarda i tempi della gara tu vedi veramente che io ho ragione su questo se di Gilles, ma c'era un accordo prima o no? è sempre un accordo da quattro anni da qua che io sono al Ferrari a tutte le gare, i piccoli di chi hanno detto che non deve fare la battaglia e che si due macchine, per esempio, si trova in testa e che c'è niente persone dietro a questo modo deve andare al piano e finire così ma non ti dicono come mai Gilles Villeneuve che non ha mai avuto problemi di questo tipo lui con gli altri ha voluto questa cosa per sé cioè voleva essere rispettato lui dico questo è il parere di alcuni, hai capito? no, non ho capito cioè molti hanno detto Villeneuve che ha sempre dato battaglia e ha sempre corso per correre fare la corsa questa volta questa volta invece voleva di essere rispettato lui no, non lo so se capisce bene come tu dice ma quando io ero dietro a Jody in Sudafrica l'ha solo passato quando Jody è venuto dentro le box quando ero in Monza che era l'ultima volta per me che era l'ultima fortuna per il cambiamento del mondo io sono rimani dietro a Jody senza tant'ora di passare quando ha fatto vuoi venire dentro la camera? quando ero a Monte Carlo io avevo rotto la camera prima di rotto la camera Jody andava lento perché noi avevamo avvantaggio io mai ho provato di passare a Jody per cui è così quando vedi la carta da rallentare la persona dietro se io va lento e che l'altra non va lento è sicuro che mi passa e come tu vedi i tempi da Imola tutte le volte che io sono davanti girare in 37.5 37.8 per la benzina per le macchine perché ha 45 secondi davantaggio sul bolletto quando è Pireni che da Venzi giriamo in 35.5